Buongiorno E' un piacere avervi ospiti virtuali qui a bordo della Stazione Spaziale Internazionale Questo posto fuori dal mondo che però rappresenta il mondo stesso E quindi è un piacere veramente, grazie Andare nello spazio è il sogno di tanti ragazzi E lo è stato di tanti ragazzi che non lo sono più al loro tempo Lei è per la terza volta in una missione spaziale Come va questo, è questo un motivo di orgoglio per tutti noi naturalmente Ma come va questo terzo esperimento, questa terza esperienza E in che misura è diversa da quelle precedenti? Beh signor Presidente questa è la mia terza missione Sì, una volta anch'io come tutti ero un ragazzo E ho avuto la fortuna di vedere gli astronauti che erano sulla Luna E da lì ho avuto questa idea di volere anch'io cercare di fare questa carriera Questa esperienza Sono stato fortunato, sono riuscito a diventare astronauta E oggi sono alla mia terza missione Grazie all'Agenzia Spaziale Italiana So che il Presidente Battistone è lì con lei e lo saluto Grazie all'Agenzia Spaziale Europea Il Direttore Generale Jan Werner mi ha pregato di portarle i saluti E questo mio andare nello spazio è stata una scoperta personale Ma è stato anche un conoramento di un sogno E alla fine io mi sento orgoglioso e onorato di poter partecipare A questa missione umana fuori dal mondo All'estensione del mondo degli umani fuori dalla Terra Secondo me è importante che questo avvenga e continui La terza missione è oggi diversa dagli altri Perché la prima che ho fatto era una missione di costruzione della Stazione Spaziale Internazionale Oggi utilizziamo la stazione Questo è il laboratorio Columbus dell'Agenzia Spaziale Europea Utilizziamo la stazione per fare cose fuori dal mondo Cose incredibili Cose che non possiamo fare sulla Terra E oggi la maggior parte del nostro tempo è dedicato a questi esperimenti tecnologici e attività educative La stazione è un avamposto importante Ci permette di capire di più come funziona la vita La nostra vita sulla Terra Ma anche guardare avanti e guardare nel futuro E sono orgoglioso di poter partecipare a questa missione del genere umano E allo stesso tempo di farlo portando la bandiera dell'Italia che è la mia nazione La ringrazio molto Come lei ha detto state conducendo esperimenti importanti Lei ha detto che la stazione è fuori al mondo In realtà è un po' il centro del mondo Perché state conducendo esperimenti importanti Esperimenti di biomedicina Che sono preziosi per la salute dell'umanità Esperimenti tecnologici sugli strumenti Già alcuni prodotti di questi esperimenti sono stati inviati sulla Terra Altri state conducendo Come sta andando questa attività di esperimentazione? Sperimentare e fare ricerca non è facile Perché è sempre difficile capire dove si può arrivare Dove si deve arrivare Dove ha senso spingere E dove ha senso invece smettere di investigare Alla fine è un lavoro molto complesso Difficile Non sempre i risultati si vedono immediatamente Tante volte vengono scoperte delle cose Che poi verranno utili in futuro Noi qui sulla stazione abbiamo equipaggiamenti Che ci permettono di fare esperimenti a 360 gradi Qui alla mia sinistra abbiamo una serra Dove coltiviamo delle piante Abbiamo del materiale per fare esperimenti Sulla scienza della vita Su noi stessi Sugli animali Sui materiali Riusciamo a fare tantissime cose Riusciamo a prendere dei piccoli tasselli di conoscenza A esplorarli E a dare questa conoscenza ai nostri ricercatori Ai nostri scienziati sulla Terra In modo che possano continuare Capendo che cos'è la nostra natura Noi alla fine siamo riusciti a evolverci E a utilizzare nel modo migliore Le cose che ci stanno attorno E imparare, conoscere Continuare questa esperienza È estremamente importante Ci sono dei risultati Che vengono utilizzati sulla Terra In continuazione Sono i risultati di quello che facciamo qua Nello spazio Ma il nostro lavoro è una piccola parte Di quello che fanno moltissimi sulla Terra I nostri ricercatori I nostri centri di ricerca Le nostre università Che continuamente cercano di allargare La nostra conoscenza E poi prendere queste conoscenze E riportare sulla Terra Noi siamo uno dei Questi tasselli L'Agenzia Spaziale Italiana L'Agenzia Spaziale Europea Lavorano affinché questo Possa avvenire efficacemente Oggi e nel futuro La ringrazio Questo è molto importante Quanto ne ha detto Il professor Battiston Che ricambia il suo saluto Che accanto a me Mi spiegava di quanto sia ampio Il numero delle persone Anche in Italia Che collaborano A queste missioni È un numero di persone Che è coinvolta nella missione Lei come ha detto È l'esponente principale La punta avanzata Nello spazio Ma vi sono tante persone Che collaborano In Italia Come in altri paesi E vi sono degli esperimenti Alcuni non sanno Che sono preziosi Perché soltanto lì Posa essere condotti Per comprendere Gli effetti Poi anche sulla Saluta dell'umanità Vorrei fare un'altra domanda Il signore Perché lì siete Un equipaggio Multinazionale Di tanti paesi diversi Di tanti paesi diversi Vi sono statunitensi Russi Insieme a lei E collaborate In pieno spirito Di cooperazione Questo è un bel messaggio Per il mondo Si conferma Che come sempre Nello spazio La collaborazione È piena Assolutamente d'accordo Innanzitutto Mi piace ricordare Che andare nello spazio Non è l'astronauta Non sono io Che volo nello spazio Sì io sono qui Ma non potrei essere qui Non potrei fare questo lavoro Se non ci fosse Alle mie spalle Un'agenzia spaziale O le agenzie spaziali Se non ci fossero I centri di ricerca Se non ci fossero Migliaia di persone Che lavorano Affinché noi Possiamo fare questo lavoro Abbiamo i centri di controllo Che controllano la stazione Mentre noi dormiamo Ci preparano gli esperimenti A noi Resta solo Di essere a bordo E di eseguire La timeline La lista degli esperimenti Che ci danno da fare Quasi un lavoro semplice Direi Paragonato Con il loro lavoro Con il lavoro Che loro devono fare Affinché noi possiamo Lavorare Ed è importante Il fatto Che qua Al di fuori Dalla terra Sulla stazione spaziale internazionale E un team internazionale Che lavora Fatto di persone Che vengono da nazioni Che non sempre Lavorano assieme Sulla terra Ma qua da fuori La terra Si vede come Una cosa unica E quasi A me sembra Quasi una Una nave In viaggio Nell'universo Ed è Ed è chiaro Che noi siamo I marinai Di questa nave Noi tutti assieme Non solo italiani Non solo europei Non solo russi Non solo americani Giapponesi Siamo tutti assieme E noi qua sopra Siamo i rappresentanti Del genere umano E la stazione spaziale Ci fa vedere Come Quando vogliamo Riusciamo A estrarci Da quelle che sono Le nostre radici Importanti Ma alla fine Piccole Perché Perché Alla fine Tutti assieme Possiamo lavorare Per arrivare In un posto Dove Singolarmente Non possiamo arrivare E forse questo È il risultato Più importante Della stazione spaziale Internazionale Farci vedere Che assieme Possiamo lavorare E possiamo Arrivare Dove non Arrivare Dove altrimenti Non arriveremo La ringrazio Questo è un bel messaggio Perché Sulla terra Non ci rendiamo conto Sovente Di quanto Le nostre sorti Siano comuni Siano legate E la vostra Il vostro Richiamo Di collaborazione Allì nello spazio È davvero Di grande importanza Un'altra domanda Volevo farle Quali sono I ritmi Che scandiscono Il suo tempo Non dico Le sue giornate Che sono Di dimensioni temporali Differenti Rispetto alla terra Ma il suo lavoro Con che ritmi È scandito Noi Siamo qui Come forza lavoro E il compito Del Dei centri di controllo È quello di prepararci Un'attività giornaliera In modo da fare In modo Di farci lavorare Il più possibile O di utilizzare Questa forza lavoro Nel miglior modo possibile D'altronde Non è facile Avere sei astronauti In questo spazio Relativamente ristretto Che Debbono Lavorare Facendo in modo Di utilizzare Le risorse Nel modo migliore Possibile E ottenere I risultati Possibili Noi Abbiamo Un orario ufficiale Che comincia Attorno alle sette e mezza Di mattina E Lavoriamo Fino alle sette e mezza Otto e mezza Di sera Abbiamo In questo periodo Due ore Di esercizio fisico Che dobbiamo fare Per mantenere I nostri muscoli Il nostro scheletro E poter Lavorare E E Quindi Sostanzialmente Questa è la nostra giornata Lavorativa Dopodiché Alla sera Abbiamo un po' Di tempo libero Per fare le cose nostre Per guardare fuori dalla finestra Per rispondere alla posta elettronica Contattare le nostre famiglie Fare Utilizzare un pochettino Le immagini Che facciamo qui Per Lavorare sui social media Per fare in modo di coinvolgere La gente Portare la maggior parte Delle persone a bordo Con noi Sulla stazione Fargli vedere Farle vedere Che cosa facciamo Ma anche Fare vedere Com'è bello Com'è unico Il nostro pianeta Come Come noi Come esseri umani Lo stiamo Sicuramente cambiando E come dobbiamo Stare attenti Nel fare Questo Questo cambio In un modo Oculato E questa è Come la nostra giornata Si sviluppa Le nostre missioni Durano circa Sei mesi Questa un pochettino Meno Ma sono in generale Di sei mesi E niente Dopo sei mesi Uno è pronto A tornare sulla terra E riprovare Le cose Le cose terrestre Anche se Devo dire Essere qua E fare superman E essere in questo posto Dove La gravità Non esiste È una cosa Veramente incredibile È una sensazione Che vorrei tutti provassero Perché è una sensazione Di libertà Una sensazione Di leggerezza È una sensazione Veramente bella Immagino Che tornare Nello spazio Per lei sia stato Entusiasmante Anche per questo Per riprovare Le sensazioni Avvertite Nelle prime due Missioni E questo È un ulteriore Richiamo Che fa pensare A quanto vi sia Di Di ascolto Nei social media Quando Quando voi Vi collegate O mandate Notizie O informazioni Sulla vostra Sulla vostra Attività È un modo Non soltanto Di coinvolgere In questa Straordinaria avventura Ma anche Di far avvicinare Alla scienza Alla ricerca I ragazzi Sì Sì la parte Educativa Della missione È una parte Veramente Importante Io Mi sento Realizzato Come astronauta Quando Sono sulla terra E posso andare A parlare Con le scuole A parlare Con la gente Quando vedo Questi ragazzi Un po' seduti Così Un po' Mogiche Quando comincio A parlare Di spazio Comincio A fargli vedere Le foto Comincio A spingerli A realizzare I loro sogni Li vedo Aprire gli occhi Li vedo Luccicare E questo Secondo me È una cosa Molto importante Fagli capire Che la scienza La tecnologia Non sono Dei mondi fuori Dove solo Delle persone Un po' Matte Impossibili Riescono A realizzarsi E a fare Ma è una cosa Che tutti possono fare È una cosa Che secondo me È importante Volevo anche Sottolineare Che il logo Della nostra missione È stato Fatto Dall'Agenzia Spaziale Italiana Agenzia Spaziale Europea Scendendo un nome Vita Vita Sta per Vita In italiano Ma anche Si capisce Anche nelle lingue Straniere Ma sta per Vitalità Innovazione Tecnologia E abilità E in queste Quattro cose Abbiamo sintetizzato Un pochettino Quello che è Il senso Di questa missione Il senso Di cosa vuol dire Andare nello spazio E il senso Di cosa vuol dire Essere umani E cercare di allargare Le nostre conoscenze Per vivere meglio Ecco sì Voi state realizzando Per tutto il mondo Una finestra Sul futuro Soltanto lì Si potrebbe fare Con questa Con questa Efficacia Questo è Certamente Entusiasmante Per lei Ma per tutti Coloro Che seguono La missione Devo farle Una Una richiesta Degnere Vorrei Che lei Scattasse Certamente L'ha fatto Scattasse Per noi Una foto Dell'Italia Dallo Spazio Un'immagine Del nostro Bel paese Presso allo Spazio Per poi Mandarmela La vorrei Collocare Qui al Quirinale Farò con piacere Signor Presidente Devo dire Che la nostra Orbita Ci porta A passare Sopra l'Italia Spesso e volentieri E devo dire Che l'Italia Da qua su È veramente Incredibile Siamo un paese Fortunato Siamo a 45 gradi Un pochettino Più su Un pochettino Più sotto E saremo Nel Sahara Un pochettino Più a nord E saremmo Freddi Come il nord Dell'Europa Abbiamo le Alpi Che ci proteggono Da tutto quello Che viene da nord Siamo un concentrato Geografico Estremamente interessante E questo Ha portato L'Italia A avere una storia Anche estremamente Interessante Farò Farò questa foto Per lei Gliela porterò Volentieri Al Curinale Così come Porterò A lei La bandiera italiana Che mi è stata mandata Dall'Agenzia Spaziale Italiana E spero volentieri Di tornare con lei Di parlare Di scienza Di tecnologia Parlare di innovazione Di abilità Anche Anche noi Sessantenni Riusciamo a dare Un contributo Con l'abilità Con le capacità Che abbiamo Acquisito Nel corso degli anni A parlare di educazione E a parlare Di queste cose Che sono importanti Per tutti noi Grazie Vedere la bandiera Del nostro paese Fluttuare Nello spazio Senza gravità E entusiasmante E sottolinea Il rapporto Che ha avuto Sempre l'Italia Con la ricerca Con la scienza Con l'innovazione L'acronimo Che è stato scelto È molto bello Perché La vita è Soprattutto Questa proiezione Verso il futuro Con la ricerca Tecnologia L'innovazione Io la ringrazio Molto Perché la sua Testimonianza Di Di scienziato Di ricercatore Di Di sperimentatore È un contributo Alla Alla convivenza Dell'umanità Ma è un grande motivo Di orgoglio Per il nostro paese La ringrazio molto Signor Presidente Sono io Che ringrazio Lei Per aver Preso Questo tempo Dalla sua agenda E Parlare con noi Sulla stazione Spaziale internazionale Ringrazio Il Presidente Battiston Che è lì Presente con lei Di nuovo Le rimando E saluti Di Jan Werner Il Direttore generale Dall'Agenzia Spaziale Italiana Dall'Agenzia Spaziale Europea Scusate E niente Questo simbolo Che abbiamo Della missione Con da un lato Il DNA Che rappresenta La scienza Dall'altro Un libro Che rappresenta L'educazione E nel mezzo Il mondo Il mondo In questo paradiso Protetto Ringrazio Ringrazio tutti Ringrazio lei E Aspetto con Con piacere Di tornare Sulla terra Ritornare A essere terrestre E visitarla Al Quirinale La ringrazio Grazie L'aspetto Al Quirinale Buon lavoro Buona giornata Grazie E la prego Di fare anche gli auguri A tutti gli altri Membri della missione Grazie Thank you To all Participants From European Space Agency Station We are now Resuming Operational Audio Communications Grazie